Sicuramente è una vittoria che ci avvicina moltissimo al nostro obiettivo. Però oggi, prima di rispondere alle domande, lasciatemi elogiare veramente il gruppo, la squadra, ogni singolo calciatore, perché è l'ulteriore testimonianza che nelle difficoltà questo gruppo ha sempre rialzato la testa. Avevamo tanti assenti, qualcuno che era appena recuperato, ma nonostante le difficoltà, questi sono ragazzi esemplari che non mollano mai, anzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Quindi oggi veramente non meriterei nemmeno di essere qua, ci sarebbero dovuti essere solamente loro per la prestazione che hanno fatto e per come riescono sempre ad affrontare ogni difficoltà. È una grande prova di sacrificio, la difesa mi ha anche reso molto bene, peccato perché l'autore di Nicodoro è stato sfortunato nel finale, però se non avrebbe mantenuto l'immassibilità. Sì, peccato, tra l'altro mi porto a casa anche la delusione nel volto dei miei calciatori al termine di quella situazione, al fischio finale, perché abbiamo preso gol all'ultimo secondo con l'arbitro che ha fischiato e più che gioire per la vittoria erano dispiaciuti per aver preso gol. Quindi questo è il termometro, mi fa capire ancora una volta con quale mentalità stanno giocando e stanno interpretando ogni singolo pallone. E questo è lo spirito giusto ed è chiaro che ora stanno venendo prestazioni, risultati, solidità. Insomma, oggi mi è piaciuto tutto. Sì, possiamo dire che questa è una squadra che probabilmente nel momento più difficile della stagione ha tirato fuori probabilmente prestazioni, le aveva già fatte tante cuore, però probabilmente è un pilotto come mai, forse, non so che ha stupito anche te, questo pilotto di prestazioni, il derby fermo, la partita anche di oggi, quella di oggi? Sinceramente a me è stupito o no, ma stupito o no perché quante volte me l'avete sentito dire come si allenano. Cioè io molte volte a loro gli ho sempre chiesto di giocare come si allenavano, perché se riescono a far quello è una squadra che può battere chiunque e fare la partita con chiunque, mettere qualsiasi avversario in difficoltà. E molto probabilmente dove siamo mancati con il Montevarchi, quando forse pensavamo di aver raggiunto un equilibrio, di essere sulla strada giusta, di tra virgolette salvarci tranquillamente, quella batosta lì forse è scattato in ognuno di loro qualcosa per dare qualcosa in più che anche nella fase difensiva, nell'interpretare ogni singolo pallone per non subire il tiro in porta, che durante la stagione avevamo fatto qualche volta sì e qualche volta no. E ora hanno trovato continuità, abbiamo trovato continuità e è giusto che si tolgono delle soddisfazioni che meritano per quello che danno quotidianamente. Si è rivista anche quell'efficacia sottoponta dell'Italia e del testo, perché Bernardotto è stato molto prezzo in quella situazione e che D'Andrea ha segnato in un'unica occasione tra i giocatori. Sì, abbiamo creato tanto, abbiamo creato tanto, Bernardotto ha avuto anche la palla immediata per fare il 2-0 davanti al portiere, anche abbiamo fallito il 3-0, abbiamo creato molto, cioè siamo tornati a fare l'approccio alla partita, è stato veramente di grande personalità, di grande qualità tecnica, perché abbiamo messo la Carrarese nella loro area di rigore negli ultimi 25 metri e facevano fatica a prendere la palla. Insomma, oggi forse è arrivata quella vittoria, quella prestazione che ha unito con più qualità entrambe le fasi di gioco. Siamo stati molto solidi e allo stesso tempo quando abbiamo attaccato siamo stati pericolosi. Quindi è questa la strada. C'è stato. C'è tutto nel primo gol. Sì, sì. Quello che hai detto è nel primo gol. Sì, ma è così, ormai le partite sono talmente equilibrate, anche oggi i risultati lo testimoniano, perché la Pistoiese ha battuto il Modena. E capite bene quanto è difficile e complicato questo girone. Ogni squadra ha dei calciatori, in questo girone non ci sono squadre, tra virgolette, materasso. Ogni squadra ha dei calciatori di qualità e quindi è normale che nella partita ci siano dei frangenti in cui attacchi e devi saper attaccare, ma all'interno della partita ci saranno anche dei momenti in cui devi saper difendere. Ed è un po' dove noi siamo mancati nella prima parte di stagione, perché noi attaccavamo con grande continuità e grande pericolosità e poi ogni tanto ci spengevamo e concedevamo delle occasioni che non andavano concesse. Oggi è stato tutto questo. Penso che la squadra ora è matura e dobbiamo insistere perché mancano ancora tre partite e dobbiamo insistere su questo perché è chiaro che oggi c'era euforia all'interno dello spogliatoio al termine della gara. È più bello vivere questi momenti piuttosto che quei momenti di depressione o di grande dispiacere come quando abbiamo perso un casa con Montevarchi.